La composizione del corpo studentesco del Damsa, quantomeno nel suo primo decennio, è chiaramente una cosa tutta da indagare. Quello che noi sappiamo lo sappiamo dai dati messi a disposizione dalla Facoltà di Lettere e Filosofia negli annuari che ha pubblicato ovviamente nel corso degli anni. Darò alcune informazioni che ovvio andrebbero integrate poi con fonti orali attentamente da vagliare. Gli studenti Damsa esplodono letteralmente nel corso di un decennio. Se il primo anno appunto è un anno sperimentale, 71, che vede quindi la presenza di 110 studenti circa, si passa l'anno successivo, il 71-72, a quasi 400 iscritti. Sto parlando di iscritti, non di matricola evidentemente, quindi iscritti complessivi. Nel corso di un decennio, quindi arrivando all'anno accademico 79-80, gli studenti iscritti risultano oltre 3.000, circa 3.600. Un numero quindi spropositato, letteralmente enorme. La loro provenienza spesso è una provenienza geografica come sarà poi nel corso degli anni, vicina e lontana. Una forte presenza di studenti bolognesi e della Romagna, una forte capacità di attrazione verso la Romagna. Questo a giudicare dai nominativi inseriti nei primissimi anni di vita del Dams Dams, nell'elenco dei laureati della Facoltà di Lettere e Filosofia, quindi è davvero una considerazione a spanne per il momento, tutta da fare, e una presenza precoce di studenti stranieri. Nei primissimi anni di vita del Dams viene laureato uno studente cinese, per dire, che non credo costituisse la norma per altri corsi di laurea. Interessante è anche dare un occhio alla composizione di genere di questa platea studentesca. Qui abbiamo trovato con bisogno un dato che io personalmente non mi sarei aspettato in un primo momento. Di solito si è portati a pensare che le opportunità formative o lavorative con un alto grado di innovatività abbiano anche un forte potere di attrazione verso la platea femminile. Non è così. Il Dams si qualifica fin dall'inizio e soprattutto all'inizio come un corso di laurea fortissima percentuale maschile di iscritti. Nel 71-72 abbiamo per esempio 275 studenti maschi e 188 studentesse femmine. Una forbice che si ampia negli anni successivi, do alcuni dati veramente a campione, dei 1800 iscritti del 75-76, 1080 sono maschi e 800 femmine. Alla fine del decennio 79-80 su 3600 errotte iscritti, 2000 maschi e 1500 errotte femmine. Quindi una capacità di attrazione soprattutto verso studenti maschi. Sui motivi di questa differenza ovviamente bisognerebbe ragionare, cioè bisognerebbe capire se rispecchiano tendenze che sono tipiche dei corsi di laurea consimili. Possiamo dire con una certa sicurezza che per quanto riguarda i corsi di laurea afferente alla facoltà di lettere e filosofia quasi sempre il bilanciamento era maggiore. Abbiamo quasi sempre in quegli anni un bilanciamento maggiore tra componente maschile e componente femminile. È una situazione quasi da corso tecnico, professionalizzante, ingegneria per capirci, quasi ovviamente, non ho detto che sia esattamente la stessa e quindi si potrebbe ipotizzare, ma ripeto questa è un'ipotesi tutta da confermare poi con testimonianze orali, che proprio la eccessiva novità, l'eccessiva rischiosità di questa proposta formativa porti all'iscrizione soggetti che hanno una minore necessità di legittimazione della propria posizione personale, culturale, sociale attraverso l'ottenimento di un titolo di studio che all'epoca era appunto estremamente, sembrava o poteva sembrare un po' nebuloso, aleatorio.